Aveva iniziato nel migliore dei modi il Lecce la stagione del ritorno in Serie A, poi però qualcosa si è inceppato. Dopo l'assonante vittoria ottenuta nella gara d'esordio contro l'Ancona, i giallorossi sono incappati in due sconfitte consecutive, patite da Piacenza e Frosinone, incassando addirittura sei gol. Questa sera, in casa del Modena, la squadra di De Canio deve assolutamente invertire questa pericolosa tendenza, affidandosi al giovane azzurro Marilungo, uno dei più promettenti e talentuosi elementi a disposizione del tecnico materano. Il Lecce non potrà contare su Defendi, ma recuperato dal primo minuto su Giacomazzi e Schiavi. Confermata inoltre la fiducia al portiere Rosati, che secondo De Canio non deve diventare il capro espiatorio della crisi del Lecce. Ma vediamo nel dettaglio la formazione antimodena di questa sera. Rosati sarà in porta, linea difensiva con Mazzotta, Fabiano, Schiavi e Terranova. A centrocampo Vives, Giacomazzi, Edigno e Angelo. In attacco la punta effettiva a Baclè, bomber molto prolifico proprio nella gara d'esordio, a segno anche nell'ultima gara con il Frosinone, sarà affiancato da Marilungo. Quanto al Modena, galvanizzato dall'ultima vittoria in campionato ottenuta contro la Salernitana, riproporrà la stessa formazione fatta eccezione per Tamburini, che sostituirà Cortellini. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitrerà il signor Valeri di Roma.